Siamo qui oggi con Gennaro Tutino, attaccante del Palermo classe 1996. Ciao Gennaro, come stai? E se ti va di fare due chiacchiere insieme a noi. Cosa ha Palermo che ti ricorda la tua città natale? Chi è che ha ordinato la pizza all'ananas, porca di quella troia! Ho una piccola curiosità, potresti raccontarci la cosa più strana che ti è accaduta nella tua vita da calciatore? Ma ero indeciso perché volevo prendere... Hai una carriera da ballerino, il dribbling in fondo è una sorta di danza, sei d'accordo? Ma che dice? Ah sì! Va bene, buona!